In epoca Covid parliamo di dispositivi medici particolarmente importanti, dispositivi sempre più sofisticati in monitoraggio a distanza. La cardiologia dell'azienda ospedaliera universitaria. San Giovanni di Dio, Ruggi d'Aragona di Salerno, si conferma centro d'eccellenza grazie all'innovazione tecnologica e alla ricerca. La struttura complessa di cardiologia è la prima in Campania, fra le prime in Italia, ad aver impiantato il primo e unico sensore wireless per il monitoraggio dello scompenso cardiaco da remoto. Michele Ciccarelli, professore associato di cardiologia dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Con questo sistema non riusciamo ad intervenire in tempo, a modificare e a gestire la terapia e soprattutto quindi a tenere a distanza il paziente dall'ospedale. Il sistema Cardio MEMS HF di Abbott è composto da un minuscolo sensore wireless inserito nell'arteria polmonare che avvisa i medici in remoto delle modifiche pressore nel circolo polmonare anche prima dell'apparire dei sintomi. Questo consente una pronta reazione terapeutica, una significativa riduzione delle ospedalizzazioni fondamentali in epoca Covid-19 e una migliore qualità di vita. Nei pazienti Cristina Esposito, elettrofisiologa dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Agendo precocemente noi possiamo intanto trattare meglio il paziente, trattarlo prima dei sintomi, quindi prima di avere un ricovero ospedaliero e tra l'altro il paziente che viene trattato precocemente arriva in condizioni migliori in ospedale, quindi anche i tempi di degenza si accorciano. Il sensore Cardio MEMS è impiantato vicino al cuore con una procedura poco invasiva attraverso un catetere inserito nella vena femorale. Una volta posizionato il dispositivo permette di monitorare da casa la pressione sanguigna nell'arteria polmonare del paziente grazie ad unità portatile che rileva le letture quotidiane del sensore. Un procedimento semplice e veloce con il quale i dati della pressione del circolo polmonare vengono trasmessi in modalità wireless all'equip medica permettendo una pronta reazione terapeutica. Michele Manzo, responsabile di un'unità elettrofisiologia dell'ospedale Ruggi d'Aragona. Con questo sistema noi riusciamo ad avere prima i segnali di un iniziale scompenso del paziente e qual è il risultato? Il risultato è un doppio vantaggio per il paziente perché evita ripetuti ricoveri cosa che è accaduta ai pazienti che precedentemente non erano ancora stati impiantati e per la struttura, quindi per il sistema sanitario nazionale è il vantaggio che si evitano dei ricoveri che per scompenso sono di lunga degenza cioè necessitano di diversi giorni di ricovero. Grazie. Grazie. Grazie.